Un investimento di 3,3 milioni di euro con fondi del BNRR per dotare la zona dei Colli di Pescara, via di Girolamo, di un impianto sportivo all'avanguardia e a disposizione di tutta la città. Lo ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci presente con l'assessore allo sport Patrizia Martelli, il dirigente del comune Giuliano Rossi, il direttore dei lavori Marianna Ricci dove sorgerà la struttura. Anche questi sono fondi BNRR che noi abbiamo intercettato perché oggi a Pescara ci sono 100 milioni di euro di lavori in corso che riguardano scuole, asili nido, impianti sportivi, strutture culturali, strutture sociali, piazze, strade grazie alla capacità di fare progetti e di intercettare risorse. Il palazzetto dello sport di via di Girolamo era atteso da circa 20 anni, non si riusciva a realizzare, invece oggi i lavori sono iniziati nel giro di meno di un anno, sarà a disposizione della comunità pescarese, dei tanti atleti, dei tanti giovani che fanno sport, dei tanti anziani che comunque vogliono continuare a fare sport. Noi abbiamo circa 10.000 atleti a Pescara e tantissime associazioni sportive. In questi mesi abbiamo investito sugli impianti sportivi 8 milioni di euro, tutti i palazzetti sono stati rigenerati, risanati, adesso ne stiamo realizzando un altro e in più tra qualche giorno consegneremo anche l'ex bolciodromo di Zanni che è stato trasformato in un altro palazzetto polivalente per attività di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5 perché Pescara è una città che vive di sport, che fa tanto sport, che ha tante persone che fanno sport e noi vogliamo mettere a disposizione della città questi impianti.